Allora abbiamo iniziato questa giornata con voi con i vostri saluti, la finiamo con le vostre conclusioni. Allora possiamo iniziare da Letizia Morati. È stata una giornata davvero intensa e io ringrazio anche tutti coloro che l'hanno vissuta e l'hanno vissuta con una grande partecipazione e quindi credo che questo sia già un elemento estremamente positivo. Penso che gli spunti che abbiamo ascoltato oggi sono davvero tanti. Io vorrei concentrarmi su alcune parole chiave che sono state dette nella giornata di oggi e attraverso le quali si può poi pensare a un percorso che è un po' l'idea che con Jacques Attali abbiamo nel continuare appunto questa nel vedere questo forum come una tappa che non finisce qui ma che si pone degli obiettivi e che vuole quindi poi proseguire concretamente nella costruzione dell'economia positiva. Le parole chiave che abbiamo ascoltato? Innanzitutto abbiamo sentito una grande passione e credo che questo sia un elemento importante perché in un momento in cui generalmente e forse soprattutto tra i giovani sappiamo che manca la fiducia, l'elemento della fiducia, manca la fiducia nelle istituzioni, manca la fiducia nelle imprese, manca la fiducia nella finanza, manca la fiducia complessivamente. Ecco allora penso che il tema della condivisione, il tema della partecipazione, il tema dell'altruismo siano tutti temi che sono quelli che sono stati toccati oggi e che possono essere gli elementi fondanti per ricostruire la fiducia e la fiducia è essenziale, è il collante della della società senza la fiducia, senza la fiducia prima di tutto in se stessi, senza la fiducia nei confronti dei propri cari, della propria famiglia, dei propri amici, dei propri colleghi di lavoro e via via, in un senso di appartenenza che si deve ingrandire via più, ecco senza questo non si riesce a costruire una società dove c'è coesione sociale, c'è volontà di partecipare attivamente, c'è la consapevolezza di poter essere protagonisti nel costruire il nostro futuro e quindi su queste parole chiave, sull'altruismo responsabile, sulla fiducia, sulla partecipazione io credo che si possa sviluppare un filo rosso che poi deve poter portare ad azioni concrete Jacques Attali oggi diceva che l'obiettivo di questo forum è di uscire con delle proposte di azioni concrete da fare, dieci proposte, non di più, ma di azioni concrete, senza aspettare e sperare che siano sempre altri a salvarci, ma essere consapevoli che la salvezza nostra delle generazioni future del nostro pianeta dipende da noi e quindi queste testimonianze di oggi che sono state fatte con grande passione, che sono state testimonianze di finanza positiva di imprese positive, di educazione positiva, di psicologia positiva, quindi con questo concetto sempre della, appunto, della positività, penso che siano, ci possano essere da guida per, appunto, per costruire un progetto, un progetto che prendendo spunto da questo lavoro straordinario che è stato fatto da, in questi anni, da Jacques Attali e dal movimento dell'economia positiva possa essere sviluppato in Italia, ma non solo per il nostro paese, ma per tutti coloro che ne vorranno far parte, perché in un mondo globale, come abbiamo ascoltato, le interconnessioni non ci consentono di isolarci e di pensare al nostro benessere senza capire che il nostro benessere dipende anche dal benessere e dalla felicità altrui. Grazie a Letizia Moratti. Allora, Jacques Attali, possiamo darci questo obiettivo? Almeno dieci idee, iniziative concrete dall'LH Forum. Sì, spero che ci siamo arrivati domani. Moi, ho retenuto oggi molte cose, non voglio dire ciò che ha detto meravigliosamente Letizia Moratti, c'era esattamente la filosofia generale. Moi, ho retenuto d'abord che c'era molto bene organizzato. Io ti ringrazio di questa organizzazione, io ti ringrazio di vostra ospitalità, che è grazie a tutti i nostri spettatori, perché questo forum è diffusato su internet. Purtro, potremmo fare meglio di oggi ancora, perché poche persone saono che ci siamo diffusi in diretta, su internet, in tre lingue, italiano, inglese, francese, e ci permette di avere un'audienza molto più grande. E io penso che non lo sappiamo, quindi tutto ciò che potete fare per tweet o per i media diversi per far sapere che la giornata di domani è in linea, in diretta, su diversi siti, l'ELHforum, l'Eco Plus TV, eccetera, c'è molto importante. Io ti ringrazio anche, perché sono sempre qualcuno che vuole le faiblessi, invece che il successo, che abbiamo potuto fare meglio, e spero che abbiamo potuto fare meglio, per organizzare delle rencontre bilaterali, per che le persone puissano vedere, per inventare dei progetti e per utilizzare la salle di café o le altre salle per per costruire dei progetti. Io ho molto appreciato, molte cose che ho ascoltato oggi, che non ne conoscevano, non ne vallò tutti le citer, ma ho molto appreciato i filosofi che propostano delle riflessioni filosofiche alle persone, ciò che parlai d'amore in marketing bancaire, ciò che sono parte di una fondazione pure in materia di salute per s'occuper della famiglia, ciò che parla di la famiglia e di l'importanza di formare dei bambini. Ho sentito molte cose che hanno ragionato in particolare, in particolare, da ciò che conoscemmo già. E io credo che sarebbe molto importante di utilizzare queste esperienze, per meglio le connaire, le far generalizzare, e vedere che in Italia, come in Francia e come ailleurs, delle esperienze straordinarie, che meritano di non restare minuscule, ma di grandire, e è il nostro lavoro che di aiutare a grandire. E poi c'è il grande progetto, che è stato rilevato molto per i media italiani, che abbiamo visto durante la giornata, perché l'Italia è così male classica. E io credo che se dovremmo ci concentrare, domani, su un grande desafio, una grande proposition, è che, indipendamente della politica italiana, nostro ruolo non è di noi metterciare la politica interna italiana, perché non è una question puremente politica, nel senso di governamentale, ma di esserciare di comprendere perché questo paese magnifico, che ha costruito la sua storia abbastanza abbastanza, che ha costruito la sua storia abbastanza in Italia, che ha pensato l'aventura con un'obsessore, quando abbiamo costruito Venise, quando abbiamo costruito Roma, quando abbiamo costruito Siena, quando abbiamo costruito tutte queste merveille religieuse o laiche, abbiamo un'idea di lungo termine, perché l'Italia non l'abbia più oggi? Non sono solo le prince, sono il popolo, sono le persone, sono le entreprises. E quindi tutto ciò che potremmo fare, collectivemente, per fare che l'Italia, come un paese anche, che non è meglio, o altri, potremmo ritrovare, d'ici al forum dell'anno prossima, qualche signo più positivo, io credo che non avremmo perdere il nostro tempo, e c'è là-dessus che io vorrei che si concentriamo domani. Allora grazie anche a Jacques Attali per le ultime parole di questa giornata.